Le previsioni meteo per venerdì 30 agosto di Globus Television, venerdì, giornata aratterizzata da generali condizioni di bel tempo, cielo prevalentemente sereno su tutto il territorio, nuvolosità scarsa, temperature massime fino a 34 gradi, valori notturni per lo più invariati, mari, mar Ionio da calmo a quasi calmo, mar Tirreno calmo, stretto di Sicilia quasi calmo